Mi preoccupo sempre di conoscere bene tutti gli alunni del Martello Cacchiette. Ho un contatto diretto con tutti i ragazzi e soprattutto mi piace che questi ragazzi vedano la presidenza come un loro punto di riferimento. Adesso siete in un'altra grande comunità, una comunità che vi guiderà anche verso un percorso quasi definitivo della vostra vita. In questi cinque anni voi riformerete, ma quello che voglio dire è che riformerete perché comincerete a capire quello che volete fare nella vita, cosa diventare. In questi banchi non occorrerete tutte queste decisioni e quindi dopo ci saranno tantissime aspettative di vita. Sono anni importanti. Dall'orecchio della passione ci sento benissimo. Chi è lo scrittore? Qualcuno me lo sa dire? Io sono pure un'ex docente di lettera. Verrò anche nelle classi, se mi piace parlare con i ragazzi, se hanno problemi vi aspetto tutti di presidenza. Se dovete invece dire che vi trovate bene per qualche cosa in particolare potete venire pure. Non è che la vita non presenta difficoltà. La incontrerete anche qua dentro. Se ci sono, dopo insieme, insieme responsabilmente le risorgiamo. Qui. Alessandro Davè. Alessandro Davè. Alessandro Davè. Alessandro Davè. Alessandro Davè. Grazie a tutti. I migliori in questo campo siamo noi, che è una vita specializzata, poi portate i metali, che non ti fermi ai. Ex-dugere, cioè tirare fuori quello che avete sentito già voi. Noi non vi dobbiamo riempire, come sacchi, di contenuti, non è questo che dobbiamo fare. Siete persone, siete persone speciali, siete la bellezza, come ha detto la preside, che fa vivere questa scuola che senza di voi è vuota. E questa società senza di voi è vuota, le famiglie senza di voi sono vuote, le città, Favara, senza di voi è vuota, il mondo senza di voi è vuoto. Voi siete il sale del mondo, dovete metterci la stabilità a questo mondo, ok? Ci state? Va bene? Grazie. 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 Grazie.